Proseguono le iniziative del gruppo Astronomia Digitale della Spezia, questa volta si potrebbe dire con un viaggio su Marte. Sì, dunque, nell'ambito degli appuntamenti che il gruppo Astronomia Digitale della Spezia organizza tutti i venerdì su vari aspetti della vita del nostro cosmo, venerdì 28 alle 21 e 15 avremo l'onore di ospettare Org Vago, che è il responsabile scientifico della missione ExoMars. La missione ExoMars sarà quella che porterà un rover dell'anno 21 su Marte al fine di poter conoscere quella che è la terza dimensione di questo pianeta, cioè la profondità. Attraverso una trivella andrà a cercare tracce della vita che molto probabilmente un tempo, quando Marte era un pianeta più accogliente, prima che si solidificasse il suo nucleo e quindi sparisse il campo magnetico che lo proteggeva, probabilmente quindi era un pianeta molto ospitale e molto probabilmente anche pieno di vita. Le tracce di questa vita saranno cercate da questa missione, quindi sarà un appuntamento molto interessante con uno scienziato di grande rilievo, argentino, classe 62, che coordina questo team di scienziati che sono quasi 500 e quindi avrà sicuramente cose molto interessanti da dirci. Questa è una missione in cui l'Italia ha una grande partecipazione? Sì, è un progetto che è fatto dall'Agenzia Spaziale Europea, da quella russa e da quella americana, dove l'Italia ha partecipato in modo rilevante con strumenti scientifici importanti. L'appuntamento quindi è per venerdì 28 maggio alle 21.15 sul canale YouTube. L'iniziativa è assolutamente gratuita e aperta a tutti. Basta collegarsi al sito del nostro gruppo di Astronomia Digitale www.astronomiadigitale.com e nella home page c'è il link per poter partecipare. Oltre a tutte le informazioni sull'attività del nostro gruppo, Grazie. Grazie.